I vi ammazzu, giuro che vi ammazzu Ma se mi sentite che c'è Sono tutti più felici Ragazzi, invece di fare la stessa cosa che avete fatto la scorsa volta Vi consiglio questa volta di prendere effettivamente una reference Vabbè, in pratica abbiamo sostituito Abbiamo sostituito Maxine con Air Commander Ci abbiamo perso, mamma Minchia, ci abbiamo perso No, ma dai, io odio Il cui medio è sceso, mi dispiace Vabbè ragazzi, dai, io faccio Oh fuck, oh fuck Vabbè, comunque ragazzi Quello che vorrei vedere è una cosa di questo tipo Sto stallando, aiuto Quindi, insomma Buona fortuna Oh cazzo, va bene inizia Allora ragazzi, molto semplicemente Benvenuti in questo nuovo build off Questa volta avete scelto E vi dico, l'avete scelto voi di partecipare L'obiettivo di oggi È costruire un aereo in un'ora Un aereo, diciamo un velivolo Ok, perché so che alcuni di voi avevano intenzione Di costruire qualcosa che non fosse proprio un aereo Quindi, va bene Dovete costruire un velivolo In un'ora Avete delle domande? Ovviamente le modi utilizzate sono la plane parts e la propeller Sempre della plane parts Come si scrive Ali in inglese? Domande serie? Ragazzi, se ci siamo Io direi che allora potete iniziare E al mio via Se non avete altre domande Siete pronti? E allora si parte gente Si parte, si parte Ok Vediamo Come la scorsa volta ragazzi Io vi ruberò Vi porterò in un'altra stanza E parleremo un po' Ad un certo punto del vostro sviluppo Ok Questa volta io non svilupperò anche un aereo Perché non sono capace Però nel dubbio Sponerò alcuni che ho appena visto Posso fare un pene? Cioè, vedi te Io non so cosa dirti Vedi te Sta botta di là Che ve la meritate quasi quasi Io ho sempre una disabilità A trovare il generatore d'ossigeno Che cosa ci stai mettendo? Generatore d'ossigeno cosa? Ma perché siamo sulla terra? Perché è un aereo speciale È il mio È un aereo sottomarino Nel senso che se c'è l'oceano E per sbaglio ci schiantiamo E mi ci butto dentro Oh ma sto a prendere una bomb bay Fantastico Ma come si fa senza gravità? Ragazzi Non è successo niente giuro Questo è il commander Il commander I tuoi aereo si stanno riproducendo Perché Sai cosa? Fa niente Andiamo da qualcuno che ha le idee un po' più chiare Questo è xplayer sicuro Questo è xplayer Quando la sua cosa sembra più una navetta Che un aereo È xplayer Ciao Ciao a te Matthew dammi delle buone notizie Niente raga Un altro video di meme Basta Mi metto anch'io in gara Allora Sicuramente vola Matthew Per terra Ma che bello Bravo A me nessuno lo dice Il commander letteralmente Hai messo due blocchi del cazzo Io Ho qualcosa di concreto qua davanti E ho anche un'idea We have an idea boys Ma puoi fai tipo un interrogatorio Hydrogen Si Tra un po' vi rubo I have a dream Adoro cosa ho fatto Ma sei bellissimo Ma sei bellissimo Credo che mi stessi tipo stessi No aspetta Grammatica Aiuto Cosa si mangia? Che mi sta Stavassi 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 Nanna C'è una persona che vi vuole salutare boys Ciao Giulia Ciao Giulia Ciao Giulia Ciao That was fast Ciao E di a gold Che deve Dar fuoco al commander Perché mi ha fonato a cosa Volentieri Ho sentito dare fuoco al commander Va bene Ma ho piccino Say no more boss Cosa? Di a gold E venire qua a vedere cosa ha fatto al commander Vai lì a vedere cosa ha fatto apposta Cosa ha fatto al commander Non l'ho fatto Cosa hai fatto al commander Ha detto che non l'ha fatto apposta Con un tono un pochino particolarmente triste Cos'è sta roba? Sta implorando pietà Ma che cazzo ha fatto? Ma cos'è un buco qua per terra È stato il commander Sta implorando a pietà E ride Non capisco quali sentimenti Siano presenti Pezzo di imbecile Beh però dai Il tuo aereo non è male È peggio Boss Non è esattamente così Che funzionano le ali Ma sai cosa? Vai Ok l'ho lanciato Uh vola gold Vola vola Allora se cade Non è esattamente volare Ma già passate mezz'ora Non ci interroghi M***a Non avete niente Vedete voi Non abbiamo niente Dai su Uh vola X player è genuinamente sorpreso Uh vola Ma devo anche ottimizzarla no vero? Ma per l'amor di dio No stai tranquillo Esatto Deve volare Mettiamola così A me mancano soltanto i carrelli di atterraggio E le armi Va bene Mi sa che è tempo che vi rubi Perché mancano 23 minuti No io sto Demorendo Allora partiamo proprio da te Ciao air commander Ciao air commander Buongiorno Buongiorno Di cosa? Fammi vedere Su cosa stai parlando Perché ci sono delle Niente sai cosa? Va bene Ok What the fuck is that? X player sta testando le armi Vai dimmi Cosa stai creando? Qual era Ciò che avevi in mente? Allora In mente Niente Cioè ho provato a fare un qualcosa Qualcosa che Cioè il problema è che io non so come funziona Questa mod Quindi sto mettendo cosa cazzo Ah E Questo lo posso vedere decisamente Ecco Allora Ho fatto una forma più o meno non aerodinamica Vedo Così vola peggio no? E Poi una gatling Se non è abbastanza coddara Va bene Finito qua Ok grazie Ok Matthew Prendo te Perché davvero guarda Lasciamo perdere È una delusione unica Ho sentito gas uscire E fa cose brutte Lascia perdere Ok Vai dimmi Che cos'è in mente Cosa stai cercando di creare Sto cercando di fare un VTOL Ok E stavolta sono serio Ok Ho preso un'ispirazione Ah E Adesso L'unica cosa decente Fonsonante che ho riuscito a fare È il carrello d'atterraggio Bello Vuoi farcelo vedere? Ok Hai tutto come ti sei Comunque mancano circa 20 minuti Quindi Cioè Non permetterei ansia Però Bello No Questo è davvero bello Il problema è che l'unica cosa funzionante Della nave Ciao Xplayer Che stavi facendo il test Delle armi Nel mentre che parlavo Con il commander Vai Dimmi Che cosa hai in mente Che cosa stai cercando di fare Oh mio Dio Ma questo non è un aereo È un aereo futuristico Diciamo Sto improvvisando Perché non ho idea La mia idea Vedo molto Guarda vedo Vedo Non c'è nemmeno provato Sinceramente Va bene Continuo anch'io A sto punto Io voglio bene Ok Ok Ho acceso ragazzi Abbiamo sentito Wow 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 È molto Così è un po' tanto claustrofobico Risponde molto meglio di quanto pensassi Detto ye Oh Sono ferito una cosa Vice funziona Funziona Ah Cos'è sto suono Che bello Ho costruito qualcosa che funziona Minchia quanto va veloce anche Guardatemi Allora sto cercando di atterrare a 104 metri al secondo Boys Secondo me potrebbe essere una brutta idea Io non ci vedo Eh ma sto atterrando in un lago Ok Wow 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 Ce l'ho fatta ad atterrare Ce l'ho fatta Il problema è che Minchia se sono Se rispondono velocemente Le Le sospensioni E potenza Facciamo un 30% Facciamo un 20% La forza la aumentiamo al 40% Oh bene No comunque davvero Adesso ci metto le armi E poi magari ci metto Ma una bella bomba da sganciare ci starebbe No perché non va Disattiva Ah si Devo No Fuck 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 Verda 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 Che bello Che bello includere il commander nei progetti Funzionano le armi Bellissimo Guardate se avessi dovuto farla bene Avrei messo anche il cockpit di vetro Se avessi dovuto farla bene Però io Io l'ho praticamente finita È un cacciabombardiere il mio 3 minuti boys Ragazzi Ci siamo quasi praticamente 10 9 8 7 Vabbè avete capito Dai Devo attaccarci due ruote Un secondo Un secondo Ci 2 1 Ed eccoci gente Finito Tutti lontani dalle vostre creazioni Tutti lontani Tutti lontani Tutti lontani 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 Non c'ho messo l'antenna Fermi tutti Ok Mi copio la struttura Perfetto Fermi tutti lontani Vi faccio la runway E ci becchiamo lì Faremo svariati test Così vi dico anche com'è che verranno valutate le creazioni La prima cosa è la controllabilità a terra Quindi come si muove effettivamente la vostra creazione Se è semplice da muovere E da far salire su una runway Secondariamente ci sarà ovviamente la parte estetica Poi la parte funzionale E ci saranno le prove di volo Ma Xplayer ma te hai fatto una nave Non è vero È un veicolo vola Il camioncino delle consegne Xplayer La controllabilità a terra del tuo veicolo La Maria Marta Va bene Dicci che cos'è Per favore Prima di tutto Allora È un veicolo Stile drone Abbastanza futuristico Doveteci la skin Quella bella Molto controllabile Molto veloce Vanilla friendly Hai utilizzato delle plane parts Hai utilizzato dei pezzi Della mod plane parts L'hai utilizzate? Non credo Xplayer Sei squalificato dalla gara Ma perché Ma perché te l'ho detto? Non c'erano scritte le regole Com'è che si chiamava il build off? Ah Mary Hai detto che i jet erano Accontentiti Ma i jet hanno delle ali Generalmente le ali le potevi fare con Le plane parts Ma un drone Va bene Va bene Xplayer Grazie per aver partecipato E niente Se fosse stata una nave Sarebbe stata in gara E sarebbe stata anche carina Da vedere Matthew Vai Facci vedere come si Come si muove Dai Magari è la migliore In termini di mobilità Mi posso com'è? No no Matthew Non te Matthew No Matthew Aiuto Va bene Ok Xplayer Fermati pure Vai Matthew Dici che cos'era Qual era il piano Perché chiaramente Mi sa che non l'hai raggiunto Esatto Allora Il piano originale Era quello di un VTOL Ok Come hai fatto ad arrivare a questo? No allora A parte le ali Il resto era Faceva parte del piano Ok Perché volevo fare un VTOL da trasporto truppe Ok Tipo un pelican Ecco l'unica cosa Mancava troppo poco tempo Per fare i motori che si giravano Capito Quindi hai optato per Un aereo Un aereo E si muove? Da trasporto truppe Allora a terra Sì Un giorno l'ho provato Facci vedere come sale sulla runway Ok Sale sulla runway Facci vedere come prende il volo Ah Hai gli aerofreni Wow Ok Wow Vola ora Ok Matthew Quello non è esattamente volare Ma insomma funziona I guess Ok adesso faccio una piccola manovra Gentilmente e prova ad atterrare Ah Questo è stallare Matthew Se stalli non è una buona cosa Va bene Nel mentre Nel mentre che te provi ad atterrare Se non te la senti di atterrare sulla runway Atterra pure sul ghiaccio Questo vale per tutti Vabbè Matthew Chiamami se sei riuscito ad atterrare Air commander Dimmi che cosa ho davanti E perché le tue pale dell'aereo stanno toccando il ghiaccio Vai dimmi Che cos'è Allora Queste pale no Servono intanto per spingersi no Perché c'è Per volare Ecco Oh perfetto Aspetta un momento A un chilometro e sei Matthew Ti prendo sulla fiducia davvero Air commander dimmi Allora Ho fatto delle Delle ali no Bellissime Una nave si chiama COD E ha sopra la metteria a trice Ah ovviamente Merluzzo hai fatto Belle le ali che a un certo punto Terminano con un quadrato Fantastico Ehm non sapevo come si faccia l'alcio E comunque Poi c'è la ruota sotto No per atterrare Per volare Aha io voglio assolutamente vedere la tua mobilità a terra Dai sali sulla runway con Con la mobilità a terra Io ce la farò Ah ok strisciando praticamente Ci arriverai Sì 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 Merda merda C'è l'era Fuck 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 Non Perfetto Ehm mobilità a terra direi che Praticamente nulla Facci vedere Dai Prova a prendere il volo Fantastico Perché non va Perché 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 Benissimo Ma dai andava Ma dai andava Ma che cazzo Perfetto Ma perché qua non va Allora ragazzi Io tecnicamente non ero in gara Va bene Secondo Io Io non ero in gara Quindi L'unico che devo Decretare come vincitore E' Matthew E' Matthew Xplayer ha fatto effettivamente Qualcosa che funziona Ma è fuori gara Se io fossi stato in gara Ok Vi faccio Vi faccio vedere Quello che intendevo Con mobilità a terra E la carruota doppia Certo Ok Sono salito sulla runway Adesso mi fermo Spengo il rotore Aumento L'esclusione Intanto vi parlo Dell'aereo che ho Questo qua E' un cacciabombardiere Non ha nome Monta Due calibro 50 Per lato E quattro bombe Da mille libre E' Va avanti Grazie ad una Doppia A un doppio propeller Quindi a una doppia elica E ad un motore Idrogeno E nient'altro Poi monta Dietro un giroscopio Per il controllo Quindi adesso Sono ad esclusione massima Accendo E via Ha preso il volo Cold Sei l'unico Che ha fatto una cosa decente Se poti spawn Una piattaforma Da bombardare E purtroppo Non so come funziona Il bombardamento Quindi Dovrò Purtroppo Giusto fare Un Un paio di giri E fare delle Bombran Immagino Ok Adesso vi sparo Con le calibro 50 Che sinceramente Non so dove stiamo sparando Ok E adesso Sgancio invece Le bombe 5 6 7 8 Medio è copiata Questa piattaforma mia Wow Porca muttana Fantastico cazzo E per finire Proverò ad atterrare Ed eccoci qua Sto dando la spinta Atterrato Atterrato Vabbè quindi Ho vinto io Grazie ragazzi Allora Ha vinto Matthew Complimenti Matthew Ora Io appunto Non ero in gara Però se fossi stato in gara Avrei voluto qualcosa Tipo l'aereo Che ho fatto Raga perché diventa Sempre più meme Questa cosa Posso copiarmelo L'aereo che hai fatto Va bene Assolutamente Grazie mille Per aver partecipato Anche a questo build off Ricordatevi Noi lo facciamo Per i meme Non per le creazioni Vi ringrazio ancora Davvero tutti E noi ci vediamo Alla prossima Bye 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 Ciao 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 Ciao